Musica Ultimi preparativi in Casagubbio in vista della gara di sabato contro la capolista Ascoli Rosato titolare in difesa in attacco torna a Tutino, Perugia al lavoro per la sfida la Pro Vercelli del bomber Eugubino Marchi Grande successo e partecipazione a Gubbio per la diciottesima edizione del trofeo Tiziana Mosca di calcio a 5 femminile, volley, termine in Polonia, il sogno Champions della Sir Safeti Perugia Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TG Sport seduta pomeridiana presso l'antistadio del Barbetti per il Gubbio atteso sabato alla sfida interna contro la capolista Ascoli prima parte essenzialmente atletica, poi la squadra ha disputato una partitella a metà campo a ranghi misti da ciò che si è visto non dovrebbero esserci grosse sorprese per l'undici titolare di mister Acori che schiererà contro la corrazzata marchigiana davanti a Gianna Rilli la difesa che sarà formata da Rosato a destra pronto a sostituire lo squalificato Luciani la Sicchie e Galuppo centrali e danno a sinistra centrocampo confermati l'Oviso in cabina regia Guerri sul centrodestra, Casiraghi sul centrosinistra mentre in attacco regolanti occuperà il ruolo di centravanti con Mancoso a destra e Tutino a sinistra quest'ultimo pronto a sostituire l'infortunato Marchionni tornati in gruppo dopo la distorsione alla caviglia rimediata due giorni fa anche Vettraino che però partirà con ogni probabilità dalla panchina assieme a Caiss domattina è prevista la rifinitura intanto da segnalare che il prefetto di Perugia ha respinto la richiesta di poter vendere i biglietti per assistere alla gara Gubbio Ascoli ai residenti nella regione Marche potranno acquistare il biglietto soltanto i tifosi bianconeri e non residenti nella regione Marche muniti di tessera del tifoso dell'Ascoli si prepara anche il Perugia chiamato sabato al match casalingo con la Pro Vercelli mister Camplone dovrà certamente fare a meno di Giacomazzi e Rizzo infortunati oltre che dello squalificato Crescenzi tra i pali copri Veccheresti in vantaggio su Amelia per una maglia da titolare in difesa confermati Goldaniga e Gazzì e Comotto con Mantovani pronto alla prima convocazione stagionale sulle corsie esterne Fazzi è recuperato e giosterà sulla destra con Faraoni spostato sul lato opposto mentre in mezzo Fiducia Fossati e Verre con Nicco in ballottaggio con Nilsen per l'ultimo posto disponibile in attacco invece si rivedrà dal primo minuto il tandem Fabinho-Ardemagni e non perdete l'appuntamento con la nuova puntata 2015 del rosso e il blu in onda domani alle ore 12 e poi alle ore 19 oltre che sabato alle 10 su RGM It Radio sarà anche proposta su TRG domani a partire dalle ore 21 e poi alle 14.30 di sabato la vigilia di Gubbio Ascoli sarà raccontata da un doppio ex di prestigio come Massimo Cacciatori Ascolano Doc ma soprattutto ex portiere di Ascoli Inter, Samp, Lazio e alla fine della carriera portiere capitano del Gubbio di Giampaolo Landi per Perugia Provercelli abbiamo intervistato l'attaccante eugubino Ettore Marchi capocannoniere con 15 rete della Serie B avversario sabato al Curi dei Biancorossi con la sua Provercelli sentiamo proprio uno stralcio della sua intervista che andrà in onda domani è una partita speciale per Ettore Marchi eugubino che si porta la maia rosso-blu un po' sotto diciamo ma guarda, onestamente la partita speciale per me quando vengo a Gubbio quando sono venuto a Gubbio non perché per lui è l'ultima quindi Perugia sì però per me c'è la partita speciale rimane sempre Gubbio anche perché poi non per me non so, ti ricorderai anche come me il Giampa è stato sempre con Iguardo quello tosto per Perugia quando io diciamo non ero più a Gubbio perché mai sono passati gli anni certo questo non è che sono tipo Perugia questo è normale però io la vivo in maniera molto serena perché per me è una partita speciale quando sono venuto a Gubbio sicuramente ricordiamo quel sassuolo Gubbio che insomma sei stato premiato è stato un bel ritorno assolutamente una bellissima giornata che Perugia ti aspetti perché adesso sta in ripresa forse un mese fa era meglio incontrarlo ma sì ma Perugia comunque in casa è sempre specialmente in casa è sempre una squadra squadra molto forte poi ha 40 punti e quindi la classifica dimostra diciamo il loro lavoro il loro lavoro appunto è a di dorso della zona pregliosa noi veniamo a Perugia nel tentativo per via punti perché in questo momento noi in effetti ci servono passiamo ora in eccellenza impresa formidabile della città di Castello che dopo l'1-1 del match d'andata espugna 2-1 il terreno del San Gimignano con un gol per tempo firmati da Bevilacqua e Pagliardini conquistando la semifinale di Coppa Nazionale di eccellenza dove sfiderà i lombardi della bustese di Busto Garolfo in provincia di Milano sarà il sorteggio a determinare chi fra città di Castello e Bustese giocherà la prima sfida in casa avendo entrambe giocato il ritorno in trasferta nell'altra semifinale si sfideranno i sardi dell'Anu 6 e i pugliesi della Virtus Francavilla semifinale in programma mercoledì 18 e 25 marzo finalissima in calendario mercoledì primo aprile la vincente è promossa in serie D domenica intanto i tifernati affronteranno in campionato la San Marco Juventina in trasferta parliamo ora di volley sfuma in Polonia il sogno della Sir Safeti Perugia in Champions League dopo la vittoria per 3 a 2 di una settimana fa i bianconeri cedono al Bilciato che vince 3 a 1 e passa alla Final Four delusione per la squadra di Gibric che aveva vinto il primo set in modo esaltante per 25 a 16 facendo sognare i propri tifosi e se nella seconda frazione i padroni di casa dimostravano di saper reagire nel terzo parziale tutto lasciava pensare che Perugia potesse riprendere il filo del match con ben 8 punti di vantaggio ma nel finale la squadra avversaria recuperava ribaltando 7 partita per Perugia finisce il sogno di arrivare fino in fondo in Champions League ma alla squadra di Gibric vanno gli applausi dei tifosi umbri italiani domenica per la Sir Safeti ci sarà il big match casalingo contro Treia mentre Alto Tevere palla a volo è atteso all'ostica trasferta contro Trentino chiudiamo parlando della diciottesima edizione della trofeo Memorial Tiziana Mosca torneo di calcio a 5 femminile andato in scena nell'ultimo weekend a Gubbio vi lasciamo con questo servizio con il quale si chiude il nostro TRG Sport grazie per averci seguito buona serata passione, cuore aggregazione e divertimento così si può riassumere il torneo di calcio 5 femminile Trofeo Tiziana Mosca organizzato dal CSI Gubbio e svoltosi nel weekend della festa della donna era di fatti proprio il 9 marzo del 1999 quando la giovane Gubbina perse la vita in un tragico incidente stradale e da allora questo bellissimo incontro di sportiva al femminile viene organizzato dagli amici del CSI di Gubbio in suo ricordo per un pensiero da sempre molto apprezzato da tutti a partire dai familiari della ragazza 12 le squadre provenienti da diverse regioni italiane iscritte all'edizione di quest'anno e circa 200 partecipanti da giocatrici tecnici e accompagnatori lo scenario è stato quello delle varie palestre cittadine dalla Polivalente di Vede il Bottagnone al CIVA di San Marco senza dimenticare l'impianto di Cipolleto e la palestra di Lecce Amazzatinti il torneo giunto alla 18esima edizione si è concluso con la vittoria della Polisportiva in 1980 di Cesena che nella finalissima ha superato 8-3 la Real Bad Arcobaleno di Città di Castello le due squadre sono arrivate alla finale dopo essersi imposte come prima del proprio girone nella prima fase e dopo aver sconfitto in semifinale rispettivamente 7-1 il Deportivo La Carogna di Ravenna e 3-0 la Gold Star Emotion di Genova anche quest'anno il successo della manifestazione è stato determinato da fair play e competizione legati dalla pura voglia di divertirsi da parte delle ragazze oltre che dalla collaborazione delle tante persone del Comitato Cessi Gubbio coordinate da Gabriele Clementi la Commissione Calcio del Comitato ha inoltre assegnato il primo di miglior giocatrice a Luana Andreini della Triomfatici della Polisportiva in 1980 di Cesena e di miglior portiere a Marica Ferraccioli del Deportivo La Carogna soddisfazione per l'edizione 2015 della Kermess anche da parte del Comune che ha patrocinato l'evento un'ulteriore occasione per promuovere lo sport e per ricordare la festa della donna commenta l'assessore allo sport Francesco Pierotti con il tradizionale torneo interregionale di calcio 5 femminile che rappresenta un importante momento di aggregazione amicizia e divertimento attraverso il linguaggio universale dello sport un grande successo dunque e per questo già si guarda l'edizione 2016 per celebrare una volta in più il calcetto è rosa